In questa prospettiva, facendo dei passi piccoli sempre, io collocherei ancora sempre all'interno di questa parola mistero l'innamoramento. Perché l'innamoramento, che viene considerato spesso anche molto accostato alla follia, invece è un atteggiamento molto casto. Perché l'innamoramento invece si avvicina addirittura alla morte. A me piace la locuzione popolaresca della lingua italiana, che fa dire a un uomo, a una donna, ti voglio un bene da morire. E questo incoraggia anche lei a dirlo. Però c'è dentro una grande realtà. Che cos'è la morte? E qui c'è una coniugazione tra la parola amore e la parola morte, che è l'esperienza dell'innamoramento. È vero, mi viene in mente un versetto della scrittura che dice l'amore, dare per esso tutti i beni della casa sarebbe ancora come disprezzarlo. E quindi è qualche cosa che va oltre tutte le facoltà vitali. Quindi è una certa esperienza di morte. Per cui l'innamoramento è sempre a un bivio, è felicità o dolore. È il momento in cui scopriamo con grandissimo stupore che le cose sono intrecciate e non si possono scendere. È vero, è più grande di te. E qui entrano evidentemente in gioco tante componenti, tante realtà. Per esempio quello che noi chiamiamo la passione. La passione che cos'è? È una passione d'amore, è una passione di conquista, è un vero atto di comunione oppure rischia di essere un mio possesso, è vero, per possedere l'altro da me e poi eventualmente anche addirittura stritolarlo, insomma, no? Perché c'è questo rischio evidentemente. È vero, la lingua italiana è stranamente povera nei termini dell'amore e quindi si dice amore in infinite accezioni. La lingua greca di duemila anni fa era raffinatissima, aveva moltissimi elementi, qualcosina noi adesso abbiamo ereditato, perché stranamente è stata la scienza a portare dentro questa cosa. Per esempio l'eros, che è un modo molto importante per dire l'amore, insomma è stato introdotto più dal linguaggio scientifico, poi addirittura è diventato anche il modo per dire un amore degradato, che non è vero, che non è vero. Però certo che l'amore come eros è quella scoperta della tua povertà, che istintivamente ti spinge ad allungare la mano per prendere e per impadronirti, insomma, no? E quindi è pericoloso. Cosa ne facciamo dell'eros? Perché l'eros potrebbe addirittura distruggere il nostro innamoramento. Quindi per l'innamoramento facciamo emergere l'eros, ma l'eros va trattato con delicatezza perché se non è trattato bene ha un potere distruttivo proprio sull'innamoramento, cioè su quella realtà più grande che è la guida della mia povertà, cioè la speranza della mia povertà, il canto della mia povertà. La cosa più grande è una scommessa. La prospettiva davanti alla quale ci troviamo, quello che è desiderabile, è che riusciamo a salire in alto. È una domanda che il mito si fa e a un certo punto loro decidono che sì, bisogna provare ad andare in alto. E c'è un momento storico molto favorevole perché dice che parlano tutti la stessa lingua, costruiscono insieme una città e in mezzo alla città iniziano a costruire una torre e questa torre deve arrivare fino al cielo. E quindi la massima realizzazione di sé alla fine è quella di arrivare al cielo. Di fatto bisogna dire che quindi ogni uomo, consapevolmente o no, desidera diventare Dio. E appunto c'è persino nel linguaggio comune la divinizazione o l'autodivinizazione dell'uomo perché appunto si diceva questo qui è un Dio, hai una bellezza divina, no? Sono capacità prodigiose, sono conquiste al di là del pensabile e quindi noi istintivamente tendiamo ad andare in alto e la vita è questa conquista dell'alto. Per cosa si vive se no? Invece certo il mondo con il quale io mi sono trovato è che questo appuntamento con la mia pienezza non avviene in alto. Quando abbiamo tentato di costruire questa torre si sono confusi i nostri linguaggi, a un certo punto non ci siamo più capiti e quindi ognuno ha preso la sua strada. Insieme questa impresa non è riuscita e la scoperta alla quale siamo esposti invece è che ci sia invece questo che abbiamo chiamato dono che conquista noi e quindi non c'è bisogno che tu ti arrampichi per andare in alto, non c'è bisogno. La cosa più importante è un'altra, è quello che tu impari ad accogliere il dono invece che conquistare qualche cosa lo devi saper ricevere. Questo è molto difficile appunto perché tutte le culture sono maschiliste e quindi sai, è delicato invece perché non devi mica conquistare, devi aprire la porta, devi accorgerti, devi riconoscere. È vero, il vecchio Abramo sedeva sulla porta della sua tenda nell'ora più assolata e più calda e a un certo punto sono passati tre angeli davanti alla sua tenda e lui ha detto no, non potete andare avanti, bisogna che veniate da me. e in qualche modo li forza a entrare nella sua vita e la sua tenda si trasforma in un canto di accoglienza. Quindi io penso che il vero sapiente sia quello che sa accogliere il dono, che è cordiale nei confronti dell'evento positivo della sua vita, lo sa accogliere. Ho fatto scoperta che gli uomini, e le donne più sapienti quando arrivano al termine del loro cammino a questo mondo e ci riflettono sopra e ne parlano in modo incredibile ringraziano tutti e ringraziano tutto. Perché? Perché sono stati talmente capaci di rendere accogliente la loro povertà che hanno ricevuto del bene da tutto persino dai loro avversari, dai loro nemici, dalle situazioni in fauste. E anche questo mi ha dato del gran bene. Qui devo molto ringraziare questo e questo. Il proprio avversario in realtà è stato fonte anche per lui di sapienza, di esperienza, di bene. E è talmente forte la cosa che persino i passaggi che nella mia coscienza io oggi giudico negativi e li giudico talmente negativi che per esempio istintivamente li censuro. È vero. In realtà invece, se guardassi fino in fondo, vedrei che anche quelli sono state generazioni positive per me. e l'essere passato anche attraverso quell'episodio, non so, di violenza, cioè che oggi ripudierei, in realtà c'è una riflessione più profonda che ti consente di dire che persino i peccati quindi vanno bene. È vero. Perché? Perché sono anche queste acquisizioni molto importanti di esperienza, eccetera. E quindi questa apertura e questa cordialità al dono è il mistero di una povertà che però in realtà è una ricchezza. In questo momento si sta attraversando qualche percezione di una certa saturazione di un cammino che si continua a fare ma in fondo c'è un interesse che istintivamente suscita il nuovo presidente degli Stati Uniti è un po' perché lui può rappresentare in qualche modo. Vabbè, intanto per il suo colore e per la sua storia ma poi indubbiamente anche per qualche affermazione insomma, no? Che è importante. Cioè a un certo punto bisogna chiedersi se non bisogna partire quindi dai poveri e dalla povertà perché altrimenti si continua a viaggiare e ammezzare ma la storia però è diversa e quindi non... Sì, va bene, la si può possedere si può usarla si può brutalizzarla però non è un rapporto pieno il nostro essere non è soddisfatto di questo. Noi non siamo soddisfatti noi non possiamo essere contenti che ci siano milioni di persone che hanno fame noi non possiamo essere contenti che ci siano regimi di oppressione che tolgono la libertà che ci siano religioni che volenti o non volenti consapevoli o no diventano la radice di grandi stragi di grandi... questo non è possibile allora io ho l'impressione che qui ci sia una chiave di interpretazione è vero cioè invece che dalla sete del potere e della ricchezza bisognerebbe è vero partire da un'altra parte e nella mia testa c'è quindi un peccato originale no? Il peccato originale è proprio quello di voler diventare Dio e quindi noi abbiamo bisogno di un'altra ipotesi che quella è molto più interessante e c'è anche bisogno che sia Dio a capire che è inutile che stia là da solo che è meglio che si faccia uomo l'incontro bisogna che avvenga qui è inutile Anche perché il tuo Dio è poco da quello che ho capito io non è poi così potente Sì, non è potente ma poi soprattutto c'è anche il rischio che anche lui debba usare dei modi violenti per continuare a cercare di contenere la situazione che poi inevitabilmente anche gli sfugge ma insomma e quindi però c'è il rischio che anche quella che noi chiamiamo la religione possa diventare sempre più violenta insomma come quando un grande impero capisce di essere messo in pericolo e quindi diventa molto aggressivo io sono molto vecchio e quindi faccio in tempo a ricordare come un residuo di giovinezza per esempio che attraverso la parola far west non pensava solamente ai cowboy ma pensava ai confini lontani e noi avevamo una visione dell'America positiva di libertaria e fonte di libertà e poi invece analizzando un momento osservando ho visto che il 6 di agosto del 45 c'è stata una curva fatale loro hanno buttato la bomba ma in quel momento sono diventati un impero preoccupato quindi non hanno più potuto esportare libertà e questo succede sempre agli imperi del mondo allora nel microcosmo della nostra esperienza anche questo può succedere e allora si tratta di chiedere se non c'è una scelta nuova ecco nella quale io vedo fra l'altro la possibilità di convergenza anche di pensieri che provengono da fonti molto diverse fra di loro perché su quello si intendono se nessuno di noi in questo momento è interessato a conquistare il potere ma per esempio a condividerlo a una gestione finalmente più condivisa e quindi anche più ricca più partecipata perché quando c'è uno solo è anche incredibilmente stretto l'orizzonte culturale spirituale diventa una retorica noiosa subito il potere di uno quindi questo sogno questo piccolo sogno c'è dentro di noi allora quello che mi pare di aver scoperto è che questo però è la verità che ognuno di noi si porta dentro coperta mistificata sciupata ma ce l'abbiamo dentro io questa speranza ce l'ho e che quello che mi interessa sottolineare è che ce l'ho a partire da termini come il termine povertà che non sono dei termini desiderabili normalmente invece anche la povertà può essere proprio la fonte di una ricchezza nuova che noi non conosciamo ancora quindi la dimensione diciamo più grave della ricchezza è la solitudine sì certo certo questo è un viaggio fatale che la natura umana continuamente percorre la povertà che lo porta verso l'altro e poi c'è questo controistinto che lo porta a fuggire o a primeggiare è vero e quindi ci sono graditi i nostri vincoli di comunione è una domanda eternamente aperta io non sono molto contento quando con troppa sicurezza uno dice che l'amore è bello l'amore è bello ma insomma i testi ai quali dedico un po' di tempo ogni giornata della mia vita parlano anche di fatica insomma e credo che ognuno conosca anche la fatica della relazione perché hai l'idea che se tu sei da sotto ti arrangi ti gestisci scusa è il meglio no faccio la mia valigia e poi mi autogestisco però però poi dentro c'è qualche cosa che non funziona eh sì eh sì eh sì sono già stanco eh certo eh sì è la tentazione dell'uomo sposato ma è la tentazione del monaco e la tentazione del monaco certe volte è anche più grave perché nel suo nome la parola monaco vuol dire uno che vive da solo poi invece in realtà non vive da solo è vero è però la tentazione di strapparsi dal gioco proprio dell'amore è vero tra l'altro un amore quindi lì non sostenuto da quello che noi chiamiamo il mondo sentimentale quindi è anche più complesso insomma no è un amore diversità che non sembrano solo creare problemi più che dare consolazione e quindi istintivamente ci stacchiamo insomma no è evidente il mio respiro di affetto nei confronti della terra santa mi porta sempre davanti a questa evidenza cioè chi appena appena un po' conosce i due popoli in conflitto e la terra e quella terra sa benissimo che non si possono fare i due stati non c'è altra soluzione che fare due stati separati ma in realtà è impossibile perché lì o si sta insieme c'è un bellissimo passaggio biblico che dice Gerusalemme è una città di cui si partecipa tutti insieme quindi ce l'ha come condizione quindi noi pensiamo che certe volte per poter andare d'accordo bisogna dividersi però è un'illusione la sete dell'insieme ritornerà subito